Serve, serve, serve per essere più competitivi e per mettere ancora più brio lì davanti. Anche perché abbiamo visto sabato che forse con l'uscita di Federico è mancato un po' di peso, anche se nel gioco che facciamo noi il peso non serve, però ci stanno partite che magari può servire. La società sicuramente è vigile in questo, io spero che arrivi qualcuno, perché voglio che il Pescara comunque sia competitivo in questo campionato. Io sono contento, ho giocato poco e ho sempre cercato di fare del mio meglio, ora devo essere bravo e dobbiamo essere bravi tutti a continuare su questa strada, anche se sabato non è andata bene, però ci può stare, magari avessimo vinto tutte le partite da qui alla fine. Però ci sta una bella mazzata per ripartire ancora più forte di prima. Possiamo dire mille cose, sappiamo che la palla è rotonda, quindi sta a me darci dentro, nel senso che le stagioni possono cambiare in una partita, in un mese e le cose possono andare male in una partita, in un mese, quindi io cerco di lavorare, di dare sempre del mio meglio, soprattutto dove gli allenatori o chi per essi mi dicono dove devo andare a lavorare. Sì dai, io ce la metterò tutta per me stesso ma soprattutto per i miei compagni e per questa squadra, perché credo che le qualità ci siano tutte e sta a noi, ripeto, darci dentro e cercare di fare qualcosa di importante. Ma la mia sensazione è anche sabato, abbiamo perso una partita dove il nostro portiere non ha mai parato, quindi se devo analizzare la partita di sabato, effettivamente il secondo tempo c'è stato un grosso calo ma la Ternana non credo che abbia fatto niente di così eclatante da dire dove invece il primo tempo è stato fatto un ottimo primo tempo, che potevamo anche chiuderlo in vantaggio, magari chiudendolo in vantaggio usciva poi una partita diversa. La Serie B, il calcio è fatto di episodi e quindi abbiamo perso la partita su un episodio, un calcio d'angolo e magari altre volte ne abbiamo vinto su altri episodi. Quindi secondo me dobbiamo, ripeto, continuare su questa strada, andare avanti su quello che ci dice il mister, su come stiamo lavorando, anche perché credo che i risultati anche sabato in alcune circostanze si siano visti. Nel primo anno di Serie A la concorrenza era altissima, c'era Diamanti, c'era Conne, c'era Gabbiadini, c'era Gilardino, quindi vediamo oggi dove sono, quindi non che fosse dura giocare, io ho sempre cercato di impegnarmi, però la Serie A è ancora più alto a livello rispetto alla Serie B e quindi ci sono state delle difficoltà, nel senso che altri giocatori sicuramente erano più pronti di me e quindi giustamente anche il mister magari ha optato per altre soluzioni. Una grandissima squadra, stanno allestendo veramente un organico di massimo rispetto, ma questo secondo me deve farci forza, non deve farci paura, anche perché andremo sicuramente a confrontarci con grandi giocatori e questo per noi deve essere comunque una cosa bella.